La rabbia di questa donna nigeriana che vive in Italia da quasi 30 anni costretta a chiudere il suo ristorante a Modena a causa della delinquenza. Sono stanchi, che gli italiani sono rassisti, italiani sono stanchi. Si sentono, sai, con una bimba che ha perso i genitori, che non è protetto da nessuno. Basta! E' un fiume in piena Gloria Isacca, 47 anni, nigeriana, sposata, quattro figli, uno dei quali laureato Una rabbia incontenibile perché da 27 anni vive e lavora a Modena dove ha aperto un ristorante ed un salone per parrucchiera Tutto pienamente in regola, ma nei giorni scorsi le è stata sospesa la licenza per lo stesso ristorante perché frequentato da delinquenti La zona della stazione infatti è una delle più calde della città e per Gloria il Livore è nei confronti dei suoi stessi connazionali Che vengono in Italia per non fare nulla e vivere a spese dello Stato, una situazione esasperante Ma che lo Stato comincia a distinguere, ci saranno quelli buoni che vogliono stare, piuttosto di far mangiare la faccia a tutti noi Anche noi che siamo qua da tanti anni, che tu prendi quello che non vuoi stare e manda la canna, non tenilo in albergo Io non ce l'ho con gli italiani perché sono stanchi, hanno anche ragioni, sono stanchi, basta Per lei in Italia c'è una forma di accoglienza esagerata I ragazzi non è che sono handicappati, sono giovani, alti, in gamba, o mandi a lavorare, mandi alle scuole, che diventano utili per lo Stato Toleranza! Troppo! 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 Sono troppo buoni! Troppo! Basta!